Sara Pastore, anche per te la prima settimana di preparazione si è conclusa, ti chiedo come l'avete vissuta all'interno del gruppo, in particolare come l'hai vissuta a te? No, è andata bene, ci siamo conosciute tutte, siamo state molte sul campo, ci serve perché comunque siamo una squadra giovane e magari un po' meno esperta, però diciamo che è andata bene, c'è tanto da lavorare, il mister ci tiene sempre sul pezzo, quella è la cosa più importante, ci conosciamo e vediamo se riusciamo a tirare un po' la somma domenica e fare una buona partita. Ecco, domenica è una partita importante, ha già un impegno ufficiale dopo solo una settimana di preparazione. Sicuramente arriviamo cariche perché vogliamo dimostrare che anche se il tempo è poco, abbiamo capito quello che vuole il mister o comunque proviamo a capire quello che vuole il mister e niente, arriviamo cariche e vogliamo sicuramente far bene, quella è la prima cosa, vogliamo far bene, vogliamo partire già subito cariche e questa qui sarà un test importante nella partita di domenica. Ecco, tu quest'anno sei una delle giocatrici più esperte in una squadra che comunque è molto giovane, la società ha cercato di coniugare il giusto livello tra giocatrici esperte e giocatrici più giovani. Quindi il tuo ruolo è anche un po' se vogliamo un ruolo di guida per le tante ragazze che sono in squadra. Ti chiedo come la vivi e se trovi diciamo anche un bel riconoscimento o questa responsabilità. Io sono una delle nuove, sono una delle più anziane tra virgolette però sono anche nuova quindi mi sto ambientando bene e sì siamo un gruppo giovane, ci sono esperte, ci sono ragazzi che hanno giocato da tanti anni insieme quindi è un bel mix che secondo me può far bene. Ho visto delle ragazze giovani ma già molto pronte nel senso che recepiscono subito quello che il mister dice, sanno bene in campo quindi secondo me ci possiamo trovare qualche soddisfazione quest'anno.